Io Padre Onipotente ti imploriamo altrimenti per questa casa, per coloro che vi abitano e per quanto in esso si trovi. Degnati di benedire questa casa come una volta hai benedetto la casa di Abramo, Isacco. Grazie. Sono Don Rocco, devo benedire la sua stanza. Possiamo cambiare zona. Grazie a tutti.